A Santo Stefano di Camastra qualcosa si muove e una novità rilevante è la composizione di un nuovo gruppo formato da tre consiglieri comunali, Cinzia Sottosanti e Leonora Rondinella Santo Rambulla, insieme a loro un altro componente dell'Aggiunta Re, l'assessore Rita Torcivia. Il nuovo gruppo consigliare si chiamerà Progetto Futuro. Con un documento indirizzato a sindaco, assessori, presidente del consiglio, consiglieri e segretario comunale, i quattro firmatari dicono, con l'attenuante delle scarse risorse, che hanno notato una stasi del governo della cittadina delle ceramiche, con una condotta indulgente, a volte statica, e poco propensa a scelte programmatiche di larga visione. I quattro componenti del nuovo gruppo consigliare stefanese giustificano la loro scelta come un modo per dare un nuovo impulso all'azione amministrativa, rimanendo in maggioranza. Il tutto per cercare di avviare un'azione programmatica, per affrontare e cercare di risolvere alcuni dei problemi più urgenti e rispondere alle numerose istanze dei cittadini. I componenti del nuovo gruppo hanno fatto sapere che rilasceranno dichiarazioni alla stampa dopo aver notificato il tutto nel prossimo consiglio comunale del 28 dicembre, mentre il sindaco Francesco Re si dice sereno e ha preferito non commentare questa notizia. Anche il gruppo di opposizione al momento non rilascia dichiarazioni. Ovviamente tra i cittadini stefanesi serpeggia un dubbio. Il nuovo gruppo politico sarà veramente dentro la maggioranza oppure farà dago della bilancia nei delicati equilibri politici in seno al consiglio comunale?